salve a tutti ragazzi io sono salvatore e oggi voglio spiegare come mettere in privato un video sul vostro canale allora prima come prima cosa dovete cliccare su questi tre puntini guardate a destra del video ed esce modifica voi cliccare su modifica ed esce una schermata esce pubblica allora voi pubblico voi fate cliccate qui sopra e gli esce un'altra scelta esce pubblico non in elenco oppure privato non in elenco lo possono vedere solo alcune persone privato invece qua lo potete vedere solo cliccando qua posso cliccare no non clicco perché se non è comunque ragazzi se vi è stato utile questa cosa iscrivetevi al mio canale e spolliciate e mettete un bel mi piace mi raccomando vi spiegherò altre funzioni sul vostro telefonino ciao a tutti buon giorno